Ristrutturiamo partendo dai prospetti e non solo un bel pezzo del quartiere Fontanelle Milo, parliamo di sei lotti, direttore Pietro Sona. Sì, abbiamo iniziato da Trapani al primo lotto per quanto riguarda il super bonus, cercando di puntare anche sulla ristrutturazione dal punto di vista sismico di questi immobili che abbiamo individuato. Chiaramente faremo anche interventi sui prospetti, sugli infissi, una bella partenza che speriamo a breve possa essere allargata anche in tutta la provincia, dove ricordiamo che abbiamo qualcosa come 7500 alloggi popolari, buona parte dei quali meritano attenzione. Il bando sarà pubblicato domattina sulla gazzetta della regione siciliana. Gli ACP di Trapani è l'unico in Sicilia che prova ad accedere a questi finanziamenti? Sì, siamo i primi, non so fino a che punto casualmente, piuttosto direi causalmente, cioè ci lavoriamo da tempo, non ci fermiamo qua, non ci accontentiamo di fare solo questo primo lotto, stiamo lavorando per allargare su tutta la provincia questo intervento di super bonus, cercando anche di snellire le procedure che fino ad oggi ci sembrano per limiti legislativi, anche un po' ci costringono all'interno di determinate categorie. Però come istituto ci siamo e continueremo ad esserci nei prossimi mesi.